L'attivazione del sistema di ripresa a circuito chiuso. Le commissioni proseguono oggi il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame dello schema di decreto recante le procedure e le modalità per la programmazione e reclutamento del personale docente, del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, atto del governo 126. Iniziamo con l'audizione della FLCGL per la quale do la parola ad Anna Maria Santoro, responsabile di istruzione CGL nazionale, che saluto e ringrazio e per aver accolto l'invito delle commissioni chiedendone l'assenso in merito alla trasmissione dell'audizione sulla web tv della Camera dei Deputati. C'era adesso la parola a Luigi Caramio per lo svolgimento dell'intervento rammentando che lo stesso dovrà essere contenuto in cinque minuti. Prego. Allora innanzitutto grazie Presidente, grazie agli onorevoli per questa audizione che ci permette di dare un nostro contributo spero positivo a un provvedimento che questo settore si aspetta da tanti anni. Allora sarò molto schematico proprio per stare nei cinque minuti, vi manderemo delle, avete già dei documenti, vi manderemo per posta elettronica i testi, sia i testi delle osservazioni, sia il testo del provvedimento con le modifiche proposte e le nostre integrazioni. Allora una piccolissima premessa, innanzitutto noi manifestiamo soddisfazione per il fatto che viene finalmente superato il DPR 143 del 2019, che quindi viene cancellato, noi avevamo segnalato che era un DPR che presentava notevolissime criticità e quindi riteniamo questo aspetto davvero molto importante. Quando poi si discute di un provvedimento come questo bisogna avere una valutazione su due livelli. Il primo livello è che finalmente si ha un decreto sul reclutamento, quindi finalmente queste istituzioni che stanno vivendo una situazione di grande espansione possono avere un modello su cui da utilizzare per reclutare il personale, per fare la programmazione e così via. E poi ci sono i contenuti del provvedimento. Io segnalo subito le cose positive però le numerose criticità che ci sono. Le cose positive sono l'istituzione dell'abilitazione artistica nazionale, qualche tempo fa una ministra disse che non si poteva fare, il meccanismo del reclutamento di coloro che sono in possesso dell'abilitazione artistica nazionale, alcune forme di tutela seppure molto deboli secondo noi per i precari e poi l'introduzione alla figura dei ricercatori. Però le criticità sono notevoli e che rischiano di far deragliare tutto il meccanismo metto su. Allora, le dico in maniera molto semplice e in maniera tale da comprendere. Allora, le istituzioni sono 103, hanno una dimensione molto piccola. Allora, bisogna fare delle procedure che abbiano caratteristiche particolari. Uno, il numero degli abilitati nazionali deve essere proporzionato rispetto alle assunzioni da fare nel triennio. Le abilitazioni devono avere validità illimitate, non nove anni come adesso è scritto. Questo, il requisito dell'abilitazione, è inderogabile per poter insegnare anche nelle istituzioni private o le istituzioni non statali che si stanno sviluppando. Le commissioni delle abilitazioni sono nazionali e tutti sono sorteggiati. C'è scritto invece che il presidente è il direttore di quell'istituto. Se l'abilitazione è nazionale, le commissioni sono nazionali. I concorsi di sede devono essere attivati soltanto se si arriva a, diciamo, un numero congruo. Quindi non è possibile fare 300 concorsi su 300 posti, ma è necessario che vi siano delle regole di questo tipo. Quindi attivano le sue modalità congiunte. Anche in questo caso le commissioni dei concorsi di sede devono essere integralmente sorteggiate. Ai componenti delle commissioni credo che vada almeno dato il rimborso spese, visto che non è previsto neanche questo, mi sembra un po' singolare se poi si fanno tutti questi concorsi. Alle commissioni devono essere applicate le norme sulle incompatibilità previste per i concorsi universitari. Noi abbiamo già assistito a una serie di vicende anche piuttosto gravi che sono state denunciate anche pubblicamente. C'è nel decreto, nello schema, il blocco quinquennale. Una cosa del tutto ignota rispetto al livello universitario. Non esiste, esiste nel settore purtroppo scolastico il blocco per alto triennale. Quindi va cancellato. La mobilità del personale docente tecnico-amministrativo è tutto legificato. Noi contestiamo. La mobilità deve essere materia di confronto e deve essere regolata nel contratto di istruzione e ricerca. Siamo contrari alla costituzione di cattedre a tempo definito già di partenza. Il tempo definito è su richiesta del docente titolare, come peraltro avviene dappertutto. È necessario istituire il ruolo nazionale delle nuove figure tecniche di supporto diretto alla didattica che purtroppo nel contratto sono state messe nel personale tecnico-amministratore. Parliamo di accompagnatori al pianoporto, tecnici di laboratorio, tecnici di palcoscenico, eccetera, sono figure che hanno... Quindi c'è la necessità di creare un ruolo. Vanno regolati i contratti di insegnamento, i contratti atipici che sono molto diffusi. C'è scritto semplicemente che si fanno. C'è un regolamento e basta. Vanno regolati in maniera nazionale. Infine, una osservazione sul testo di cui stiamo discutendo. Il provvedimento è stato più volte respinto dal Consiglio di Stato perché mancava il concerto del Ministero dell'Istruzione. Il testo che vi è stato mandato non c'è il concerto del Ministero dell'Istruzione, come potete notare. Quindi secondo noi è un testo, non so quale testo di cui stiamo discutendo. Voi sapete che nel testo vengono abrogate numerosi articoli del testo unico della scuola. Sarebbe forse il caso di sapere in che termini è stata fatta questa cosa. Ultimissima cosa, siccome mi rivolgo soprattutto ai componenti della settima commissione, voi discuterete, a brevissimo, fra qualche minuto forse, del DPR sugli ordinamenti. Su cui non so perché non sono stati previsti audizioni. Noi per sicurezza ieri vi abbiamo mandato le nostre osservazioni. Come sindacato siamo perfettamente in grado, dei docenti, del personale tecnico-amministrativo, di dare delle nostre opinioni. Anche in quel caso vi segnalo che ci sarebbe il bisogno del concerto del Ministero dell'Istruzione banalmente perché le istituzioni AFAN fanno delle attività, soprattutto i conservatori, ma anche l'Accademia di Nanza, in relazione a ragazzi più giovani. E quindi forse sarebbe il caso di sapere come si regola. E visto che c'è scritto che il Ministero dell'Istruzione avrebbe dato il concerto, forse non sarebbe male conoscere in che termini l'ha dato. Ovviamente troverete tutto in maniera più approfondita, ovviamente cinque minuti sono pochi, nella documentazione che vi arriverà in maniera informata elettronica al termine di questa audizione. Grazie davvero. Grazie. Ci sono deputati che intendono intervenire? Se non ci sono gli interventi, proseguiamo con l'audizione di Domenico Carlo Magno, segretario nazionale CIS Università. Che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito delle commissioni, chiedendo l'assenso in merito alla trasmissione dell'audizione sulla web tv della Camera dei Diputati. Grazie, saluto e ringrazio lei Presidente e i componenti di questa commissione per questa opportunità di audizione su un provvedimento che attendiamo che il settore AFAM attende ormai da 25 anni e che nella scorsa legislatura finalmente, dopo diversi tentativi che erano state fatte nelle legislature precedenti, aveva visto il varo di un DPR, il 143 del 2019, sul quale come organizzazioni sindacali, anche come la conferenza dei direttori e dei presidenti e anche il CNAM, avevamo fatto tutta una serie di rilievi. In primo luogo, era stato detto che siccome il settore si avvicinava, dove essere omologato a quello universitario, si doveva prevedere anche per questo tipo di reclutamento l'abilitazione, un'abilitazione scientifica, un'abilitazione artistica nazionale. Questa era la critica più importante, più rilevante che era stata fatta al provvedimento. Sulla scia di questa critica era stato riscritto il DPR che andando all'esame del Consiglio di Stato, aveva avuto buon gioco il Consiglio di Stato, passatemi questa espressione, nel dire che l'abilitazione artistica nazionale non si poteva fare in quanto mancava, come per l'università, un'espressa previsione legislativa in tal senso. La previsione legislativa è arrivata lo scorso anno, dopodiché evidentemente il testo è prodato al Consiglio di Stato ed è quello che adesso è all'esame del vostro parere. Quindi l'abilitazione artistica nazionale è stata prevista. Naturalmente l'abilitazione artistica nazionale aveva anche non solo una funzione di omologare i reclutamenti dei due settori, ma anche la funzione di, in qualche modo, di alleggerire, di scremare poi le procedure di reclutamento che erano tutte affidate alle istituzioni decentrate. Bene, il testo quindi complessivamente, ci sono tutta una serie ancora di punti che possono essere evidentemente ancora valutati, ma noi riteniamo che, poiché aspettiamo il provvedimento da 25 anni, il provvedimento riteniamo che vada assolutamente varato. Ci possono essere degli aggiustamenti, evidentemente, che si potranno fare nelle pieghe legislative e regolamentari. Perché dobbiamo assolutamente avere un provvedimento sul reclutamento di questo settore. Perché il reclutamento, in questi 25 anni, l'abbiamo fatto, è stato fatto con, diciamo così, composizioni locali, commissioni composte localmente, con criteri, diciamo così, non proprio omogenei, con commissari che io ho definito, un po' provocatoriamente, anche negli incontri ministeriali, un po' compagnie di giro, perché erano un po' sempre gli stessi docenti che componevano le commissioni e quindi evidentemente anche il criterio di valutazione, di selezione dei docenti erano criteri, diciamo così, uniformi, no? Perché essendo sempre gli stessi commissari si tendevano evidentemente a privilegiare sempre determinati requisiti nella selezione. Dopodiché con selezioni, sempre, diciamo così, con questo meccanismo di selezione locale frammentario, poi intervenivano i decreti ministeriali a stabilizzare il personale e quindi avevamo, diciamo così, non propriamente una selezione, diciamo così, che potesse in qualche modo premiare e vedere il recutamento delle migliori professionalità del settore. Per cui ci dobbiamo dotare di questa normativa sul recutamento. Come pure le commissioni sono state tutte, c'è previsto un sorteggio e quindi dovrebbe in qualche modo, diciamo così, superare la logica un po' delle solite partecipazioni. Il reclutamento, quindi, tende un po' ad essere uniformato a quello universitario e qui, diciamo così, si tendono anche un po' a recepire alcune criticità del reclutamento universitario. La prima è che bisogna un po' evitare che il sistema poi dell'abilitazione artistica nazionale sia in qualche modo regolato, fermo restando poi anche qui, tempi dell'abilitazione artistica, se nove anni o allungarli, eccetera, cosa che è avvenuta per l'università, perché per l'università l'abilitazione scientifica nazionale inizialmente era prevista per tre anni, poi prorogata a sei e ora nove, ma soprattutto bisogna un po' stabilire un qualche parametro tra i cosiddetti abilitati e poi i docenti chiamati. Questo perché evidentemente, altrimenti, noi ampieremmo notevolmente la platea dei cosiddetti docenti che aspirano poi alla stabilizzazione. Il regolamento prevede, sempre in assimilazione al reclutamento universitario, il sistema del punto organico, il sistema del punto organico è quel sistema per cui tutto il personale docente e tecnico-amministrativo viene considerato con dei parametri prefissati, bene, e quindi non fa distinzione tra i ruoli. Questo meccanismo nell'università dal 2019 al 2023 ha fatto sì che il personale docente che era stato evidentemente anche in primo momento contenuto per effetto poi dei provvedimenti di contenimento di finanza pubblica dal 2009 fino al 2017, ma dal 2017 è tornato ai livelli 2009 ed è ulteriormente cresciuto per il personale tecnico-amministrativo in questo stesso periodo per l'università, proprio col sistema del punto organico, abbiamo visto ridurre di circa 7-8 mila unità complessivamente il personale. Quindi questo è un rischio evidentemente che questo sistema adottato anche all'AFAM potrebbe comportare anche per questo settore. Cioè bisogna stare attenti che una componente, diciamo così, la componente docente, la componente tecnica-amministrativa nella composizione degli organici non prevalga. Quindi conclusivamente la nostra valutazione, ripeto, resta positiva. Lo schema è uno schema che ricalca in buona parte quello della precedente legislatura, ripeto, con l'introduzione di questa importante novità dell'abilitazione artistica nazionale e crediamo che sia un provvedimento importante proprio perché tende ad ossimilare ancora il sistema, il settore AFAM a quello universitario. Grazie. Grazie a lei. Chiedo se vi sono deputati che intendono intervenire. Non ci sono interventi. proseguiamo con l'audizione di Marco Ciamacco, segretario di Dipartimento AFAM Will Rua, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito delle commissioni, chiedendo l'assenso in merito alla trasmissione e all'audizione sulla web tv della Camera dei Deputati. Le cedo la parola per lo svolgimento dell'intervento. Grazie alla Presidenza e a tutti i componenti delle commissioni per questa importante audizione perché importante è per l'AFAM in quanto noi stiamo oggi discutendo di un regolamento sul reclutamento del personale sia tecnico-amministrativo che di docenza che il sistema non ha mai avuto e in questi più di 20 anni dalla riforma, 24 per l'esattezza, il regolamento che è stato fatto ha generato non pochi problemi tra cui quelli del precariato che in parte è stato assorbito ma non totalmente. Nel processo di statizzazione degli istituti musicali pareggiati che è avvenuto di recente sono stati costituite delle graduatorie che io definisco nazionali per consentire a quel personale di essere assunto. Buona parte di questo personale è stato assunto, una piccola parte, parliamo di solo 30 unità, è idoneo, può essere assunto ma queste graduatorie hanno due vincoli. A, una scadenza temporale legata ai tre anni quindi è scadenza. B, che il reclutamento a differenza di tutte le altre graduatorie nazionali può essere fatto solo ed esclusivamente presso quell'istituto che l'ha generato. Quindi, se andiamo verso una nuova stagione di reclutamento, attenzione a non lasciare indietro chi è rimasto indietro. Detto questo, qual è l'obiettivo del reclutamento? Il reclutamento è avere regole certe per chi entra nel sistema ma il reclutamento senza entrare adesso nella tecnica di come avviene il reclutamento porta con sé un problema importantissimo che io oggi devo porre. È un sistema che non consentirà il reclutamento del personale docente e tecnico e amministrativo perché non lo consentirà perché le istituzioni dovranno fare una programmazione triennale del fabbisogno. Nel fare la loro programmazione avranno a disposizione quello che il DPR definisce facoltà assunzionale. Cos'è la facoltà assunzionale? La facoltà assunzionale è data dalle cessazioni dell'anno precedente. Quindi, se faccio un esempio molto semplice, io ho il conservatorio dell'Accademia di Roma di Milano prendiamo un esempio a caso ha 20 posti vacanti in dotazione organica che deve ricoprire per forza perché quei posti garantiscono l'offerta formativa non li potrà ricoprire se non limitatamente alle cessazioni quindi ai pensionamenti avute nell'anno precedente. Quindi, se l'istituzione ha 20 posti vacanti potrà reclutare 1-2 docenti o 1-2 tecnici e amministrativi e tutto il resto dei posti continueranno ad essere ricoperti a tempo determinato con un'altra problematica che il DPR nel recepire le direttive europee impedisce di prorogare i contratti a termine oltre tre anni quindi, se io vado sul macro dato che tra l'altro è ben certificato dalla ragioneria dello Stato nel dossier l'AFAM ha oggi 1.850 posti vacanti di docenza 400 di tecnici e amministrativi a fronte di una media di cessazioni ogni anno è di 200 quindi il DPR sarà questo strumento che consentirà al sistema di reclutare 200 persone e continuare a mantenere cronicamente 1.400 1.500 posti che ogni anno continueranno ad essere reclutati a tempo determinato ma la domanda è se ogni istituzione fa le proprie graduatorie a tempo determinato come sono disciplinati all'interno del DPR dopo tre anni cosa fa con i docenti a cui ha affidato i corsi che non può nemmeno chiudere il ciclo perché un ciclo è di 5 anni 3 più 2 quindi inizia un percorso con un docente dopo tre anni lo saluta gli chiude la porta perché questo è la regola quindi deve creare nuovo precariato quindi il problema del DPR senza entrare nel tecnicismo di come avverrà fatto non solo è indispensabile ma se non c'è la copertura della facoltà funzionale se non c'è un investimento se è a costo zero la sua applicazione saremo tutti felici di avere lo strumento ma deve essere accompagnato da qualcos'altro altrimenti è uno strumento che non risolve il problema 11.000 posti totali tra docenti e tecnici e amministrativi 1800 posti vacanti che saranno sempre lì fermi come l'abbiamo visti da vent'anni perché ci sono questi posti vacanti perché non c'è stato il reclutamento in passato e quindi tutte le cessazioni sono state perse perché non è mai stato corrisposto un'ulteriore assunzione perché mancava il reclutamento altro problema che si porta dietro il reclutamento è decisamente importante è la mobilità del personale il sistema attuale è molto semplice deriva dal sistema scuola ogni anno il ministero fa uscire un'ordinanza ministeriale dove il personale fa domanda viene graduato secondo determinati criteri e viene spostato laddove c'è il posto oggi questo viene totalmente cancellato perché perché saranno le istituzioni a decidere su esempio una istituzione che ha una dotazione organica di 100 posti ho 20 posti vacanti posso reclutare per due perché quella è la mia facoltà assunzionale quegli altri 18 posti non ho nessun obbligo e nessun criterio da rispettare posso decidere di non offrirle alla mobilità che tra l'altro viene fatta anche attraverso un concorso quindi la domanda è perché devo dare questa grossa questa grossa discrezionale istituzione di decidere se attivare la procedura di reclutamento o no se tanto quel posto io poi lo devo reclutare a tempo determinato la domanda è ma se posso posso diminuire il ricorso al precariato per garantire una programmazione prioritaria della didattica perché devo avere questa discrezione tra l'altro noi non è che chiediamo uno stravolgimento ma se la conseguenza del blocco della mobilità è ricorrere al tempo determinato non ne capiamo la logica bisogna dare alcuni criteri alcuni parametri cioè se c'è una scelta precisa di un'istituzione delle istituzioni la scelta deve essere motivata si deve basare su determinati criteri che tra l'altro noi abbiamo il contratto nazionale che esplicita chiaramente che la mobilità è oggetto di confronto tra le organizzazioni sindacali e il ministero quindi a nostro avviso c'è una prevaligazione del contratto nazionale per quanto riguarda la posizione della docenza noi oggi il ruolo della docenza cambia radicalmente perché chiaramente il reclutamento e quindi anche il sistema della mobilità si sposta verso quello che è il sistema universitario ma se oggi il docente è chiamato ad essere reclutato in una sede rimanere lì praticamente quasi a vita perché il sistema non ti dà solo il potenziale possibile di trasferimento ma di fatto così come è scritto sostanzialmente è veramente irrisorio poi c'è un obbligo enorme di lavoro perché le commissioni di reclutamento di abilitazione nazionale le commissioni per la valutazione della mobilità le commissioni per il ruolo a tempo determinato saranno tutte gravate è un lavoro che si aggiunge al personale e francamente qui apriamo un altro problema che è quello della retribuzione che si lega tra l'altro a quello che è il tempo definito perché il DPR sul reclutamento definisce anche la possibilità da parte delle istituzioni di trasformare il posto di docenza a tempo definito cioè al 50% addirittura dicendo che la retribuzione sarà al 50% la domanda è ma veramente dobbiamo creare dei posti di docenza al 50% a tempo determinato con uno stipendio che sarà inferiore a 1000 euro perché uno stipendio di un docente AFAM non arriva a 2000 euro quindi il tempo definito è un'opportunità per quei professionisti che possono portare dentro l'AFAM un contributo e che per esigenze personali non riescono ad avere a pieno la docenza ma non può essere un frazionamento dato all'istituzione che fa uno spacchettamento infinito creando di fatto un docente di ruolo e ripeto a meno di 1000 euro al mese quindi ci sono questi sono i nostri rilievi ovviamente ci auguriamo ovviamente che il reclutamento vada in porto perché un sistema deve avere un canale di reclutamento ma ci aspettiamo anche che qualche cosa qualche piccola modifica che noi abbiamo chiesto nelle nostre osservazioni che abbiamo mandato possa essere accolta perché non chiediamo di stravolgere il sistema ma chiediamo solo alcune piccole correzioni che potrebbero trovare accoglimento grazie mille grazie a lei ci sono colleghi che intendono intervenire nessuno intende intervenire quindi concludiamo con l'audizione in videoconferenza di Ornella Cuzzupi segretaria nazionale di UGL scuole istruzioni che saluto e ringrazio per aver raccolto l'invito delle commissioni chiedendone l'assenso in merito alla trasmissione dell'audizione sulla web tv della camera la salutiamo che è in presenza e le cedo la parola per cinque minuti bene la ringrazio allora vorrei entrare nello specifico visto che già abbiamo parlato tanto di quanto intanto applaudiamo a un'iniziativa che dopo vent'anni ci stava tutta l'abbiamo letto con attenzione il testo e dobbiamo qui elaborare quelle che sono le nostre considerazioni sono diverse le direttrici su cui si è intervenuti e che costituiscono le linee guida più significative del recente schema di decreto dalla riforma del ciclo del reclutamento e della mobilità col decentramento delle procedure di reclutamento e di valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni all'introduzione dell'abilitazione artistica nazionale alla programmazione dei fabbisogni formative di personale al superamento della mobilità nazionale e all'introduzione alla disciplina della figura del ricercatore AFA ma l'ambito dell'alta formazione artistica musicale e coreutica richiede ancor di più coraggio e soluzioni innovative per la programmazione e il reclutamento del personale docente amministrativo e tecnico soluzioni più al passo con i tempi con l'era tecnologica ormai 4.0 ed aperte al territorio fonte imprescindibile per il successo condiviso da parte nostra poniamo sul tavolo alcune idee attraverso le quali a nostro avviso sarebbe possibile migliorare il sistema piattaforme di talent taxation creare piattaforme digitali specializzate dedicate per la ricerca e l'assunzione di personale docente amministrativo e tecnico del comparto AFA organizzare eventi di networking ossia creare coltivare una rete di conoscenze relazioni professionali significative e duratura nel tempo nell'ottica di scambiare valore reciproco per il proprio lavoro programmi di formazione continua investire in programmi di formazione continua per il personale docente amministrativo e tecnico anche facendo collaborare tra di loro le istituzioni AFAM quindi creare il collegamento scuola AFAM collaborazioni interdisciplinari favorire la collaborazione tra diverse discipline all'interno delle istituzioni AFAM ad esempio docenti di musica potrebbero lavorare con insegnanti di danza o arti visive per creare progetti interdisciplinari stimolanti valutazione basata su competenze sviluppare quindi un sistema di valutazione basato sulle competenze che tenga conto non solo delle qualifiche accademiche ma anche delle abilità pratiche e dell'esperienza professionale promozione dell'innovazione tecnologica introdurre nuove tecnologie nell'insegnamento e nella gestione amministrativa ricerche e sviluppo investire in ricerche e sviluppo specifici per l'AFAM questo potrebbe includere lo studio di nuove metodologie didattiche l'analisi delle tendenze del settore e la creazione di reti di collaborazione con altre istituzioni simili a livello nazionale internazionale incentivi per la mobilità creare incentivi ed offrire opportunità di modalità nazionale e internazionale per il personale al fine di favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze tra diverse istituzioni AFAM anche di altri paesi promuovendo quindi la crescita professionale del personale e l'arricchimento delle competenze partecipazione degli studenti coinvolgere gli studenti nelle linee guida riguardanti la programmazione le loro prospettive possono portare a soluzioni fresche e innovative collaborazione con l'industria creativa stabilire partnership con l'industria creativa come case discografiche teatri gallerie d'arte e studi di registrazione in sintesi conclusione l'AFAM dovrebbe abbracciare in maniera convinta l'innovazione rendendo la parte integrante del suo sviluppo e garantendo in quel modo una formazione di alta qualità e una gestione efficiente grazie grazie ci sono interventi non ci sono interventi ringrazio ancora gli ospiti per tutte le osservazioni che ci hanno portato e dichiaro concluse le audizioni all'ordine del giorno grazie consegnerai perfetto vorrebbe fare un piccolo se possibile se abbiamo tempo potremmo aggiungere qualcosa se abbiamo tempo non si preoccupi siamo un po' in ritardo però prego sarò breve perché entro in merito al testo e alla stesura del testo con alcune osservazioni che ritengono sia necessarie per perfezionare per perfezionare il testo e per renderlo diciamo ancora più chiaro innanzitutto signor Presidente e onorevoli membri di questa eminente commissione parlamentare grazie per averci dato per aver dato a noi la possibilità quindi di avere l'opportunità di esporre le nostre ragioni e il nostro parere su un provvedimento che giunge dopo un quarto di secolo finalmente e soprattutto nel tentativo ormai chiaro che questo allineamento e comunque questa tentata assimilazione al contesto universitario del reparto AFAM in realtà si è rivelato una impresa irrealizzabile e quindi nei fatti noi cerchiamo di offrire il nostro contributo sinteticamente attraverso una maggiore attenzione verso i settori disciplinari che sono stati elencati nel provvedimento perché sono stati elencati in termini molto generici e soprattutto mancano quelli legati alla musica jazz per quanto riguarda ancora la possibilità di svolgere i lavori della commissione si chiede attraverso il mezzo informatico si richiede una ponderata valutazione in considerazione della natura riservata dei suddetti perché la settima commissione se lasciate le memorie così saranno in visione a tutti i commissari scusate ma la settima commissione deve a tutti i commissari di svolgere a tutti i commissari di svolgere di svolgere